Bentornati su MyFootballGersey. Vediamo un grande classico del calcio mondiale. Questa l'avrete sicuramente riconosciuta. È la versione fan della prima maglia del Rivel Parade. La prima maglia del Rivel Parade. Questa maglia me l'avete chiesta in tanti e devo dire che sicuramente meritava di arrivare sul nostro canale. A me piace molto, ottime qualità, il costo come al solito lo vedete, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Se volete saperne di più trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon di 5 dollari. Quindi il costo che avete visto prima diventa ancora più basso. Ora, prima di lasciarvi la parte finale nella quale vedrete le misure, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale. È un piccolo gesto che però per noi fa tantissima differenza. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie. Grazie a tutti.